guerra cosa dice la costituzione italiana la costituzione italiana che è entrata in rigore il primo gennaio 1948 è molto chiara nei confronti della guerra l'articolo 11 dice l'italia ripudia la guerra come strumento per risolvere le crisi internazionali l'italia non il popolo italiano per quale motivo gli animali le pietre i laghi tutte le cose che sono presenti in italia ripudono la guerra come strumento per risolvere le crisi internazionali l'italia che aveva applaudito mussolini quando era entrata in guerra provando gli errori della seconda guerra mondiale decide di scrivere una costituzione per il nuovo stato italiano questa costituzione ha fra i suoi principi fondamentali l'articolo 11 in cui l'italia prende una posizione molto chiara nei confronti della guerra ciao al prossimo video vi aspetto